Ben trovati amici telespettatori Con il consueto appuntamento dottori in prima linea Quest'oggi parleremo dell'organo più importante del corpo umano Noi molte volte abbiamo detto che il corpo umano è simile a una macchina Con delle spie luminose che si accendono quando qualcosa non va Ora andiamo proprio a capire chi fa accendere queste spie luminose Chi gestisce, chi controlla tutti gli organi del nostro corpo Parlo appunto del cervello, quindi del sistema neurologico Lo faremo con un professore, con un medico d'eccezione Il professor Reinhard Prior, docente in Germania tra l'altro Un neurologo Quindi dottore, le patologie del sistema neurologico sono tantissime Forse quella un po' più diffusa, quella che poi tutti più o meno soffrono Sono le cefalie, sono i mal di testa, le emicranie Quindi cominciamo proprio con questo argomento La cefalia, come si può curare innanzitutto? Diciamo che si può curare e soprattutto si può gestire Molte volte anche molto bene E infatti le cefalie sono una delle problematiche più frequenti Che ci troviamo nel lavoro quotidiano, in studio Perché molte volte molto anche invalidanti Invalidanti per giorni E soprattutto spesso non caratterizzati solo da un dolore Ma da una molteplicità di possibili sintomi associati Che non è il semplice mal di testa Cioè la differenza, ecco, come possiamo riconoscere il semplice Distinguere il semplice mal di testa dall'emicrania, dalla cefalia Cefalia come termine greco di parola vuol dire mal di testa Giusto? Raggruppa tutto Poi ci sono i vari tipi di cefalia Di cui comunque quella importante Quella che crea sintomi anche invalidanti Quella più frequente è l'emicrania L'emicrania si chiama emicrania perché metà testa Spesso è lateralizzata Tipo emisfero, no? Colpisce una metà della testa Perché abbiamo due emisferi cerebrali Ed è causata da una iper-eccitabilità dei neuroni Che in genere comincia in un emisfero solo Non contemporaneamente nei due emisferi Per cui è emicrania L'emicrania causa importanti disfunzioni neuronali Perché la parte eccitata in quel momento Cerebrale va un po' fuori funzione normale Oppure ha troppa funzionalità Così l'emicrania a seconda di quale parte Della corteccia cerebrale o del tronco cerebrale È primariamente coinvolta Causa una varietà, una gran varietà di sintomi Che oltre al mal di testa Che del resto può anche completamente mancare O essere solo leggero Possono essere frequentemente disturbi visivi Ma anche disturbi sensoriali Formicolii in testa Spesso addormentamenti da un lato del corpo Molto frequentemente vertigini Specialmente quelle vertigini Che non sono proprio vertigini fortissime Ma vertigini caratterizzate da un senso di instabilità Come un mal di terra Quando si scende dalla barca Che è vissuta molto preoccupante dai pazienti Perché ci si aspetta di svenire, di cadere Anche forse un po' il senso di nausea Sì, sì, sì Con le vertigini E anche senza le vertigini Nausea e anche vomito Quando si attivano i centri del tronco cerebrale Che regolano questi riflessi, queste funzionalità Come si può gestire questa patologia? Farmaci per forza bisogna Il primo passo è di inquadrarla, di riconoscerla Che forse è quello il passo un po' più Di fare la diagnosi corretta Che molte volte Prende del tempo E per aggiungere un altro frequente sintomo Dell'emicrania Spesso non riconosciuto È la fragilità emotiva Anche il panico Episodico Ci sono tante persone che hanno delle depressioni Che li durano due o tre giorni O che hanno crisi di panico Magari associato a un lieve mal di testa Ma non molto importante Che finiscono non raramente Alla fine su un binario psichiatrico Terapia della depressione Anziolitici Poi alla fine Quindi non va sottovalutata Diventano pure dipendenti E invece non hanno depressione Hanno emicrania, ipericitabilità Neuronale Che causa questo sintomo Abbiamo parlato dei sintomi Sintomi inquadrati Di aniosicoretta fatta E possiamo così arrivare Alla terapia Alla soluzione Due tipi di terapia Una momentanea sintomatica Quando il sintomo c'è Che può essere l'unica Se il sintomo non è troppo frequente Che sono Antinfiammatori Anche l'aspirina Tante volte l'aspirina Ha il dosaggio giusto Di un grammo Magari preso in forma granulare Rapidamente efficace È molto efficace Nelle emicranie Infatti nel pronto soccorso Spesse volte viene dato Aspirina Inflectadol Endovena Che è molto efficace Comunque non importa poi Ibuprofene Chetoprofene Paracetamolo Paracetamolo Un po' meno efficace E poi Quella classe di Farmaci Che vent'anni fa Sono venuti sul mercato I triptani Che Vanno su specifici Ricettori Coinvolti Nell'attivazione Vascolare Che sono Se efficaci Molto efficaci Comportano Un certo rischio Di Essendo molto efficace Poi di abuso Di assunzione Troppo frequente Il che Porta Il non raro Problema Secondario Di una cefalea Di rimbalzo Da uso eccessivo Di farmaci Che poi Spesso È una doppia di anni Di aniosi emicrania E cefalea di rimbalzo Almeno di quelle persone Molto sofferenti Il secondario di aniosi E cefalea Da uso Eccessivo Di Aniosi Di farmaci Dottore ma si guarisce Oppure si deve convivere Con questa patologia Bisogna allora Anche Comprendere Che alla base Delle emicrania Sta una predisposizione Costituzionale Biologica Nostra In quanto Sono Iper-eccitabilità Una tendenza Dei neroni Ad andare In un certo Stato funzionale I neroni Si distinguono A tutte le altre cellule Del corpo Perché hanno Delle proprietà Elettriche Di membrana Che possono Cambiare Velocemente I loro Potenziali Di membrana E hanno Una miriade Di canali Sulla membrana Cellulare Che regolano Le correnti Se qualcuno Di quelli canali Di cui Ce ne sono Centinaia E di cui Molti ancora Non sono neanche Identificati Nel loro ruolo Nelle emicranie Però Se qualcuno Di quello Come proteina Come efficienza Della regolazione Di corrente Funziona Un po' di meno Ho una tendenza Personale Che i miei Neroni Si possono Eccitare Di più Che non In altre persone In cui sono Più stabili Per cui Quella Funzionalità Delle proteine Neuronali È regolata Dalla Conformazione Delle proteine Che è regolata Dalla sequenza Degli amminoacidi Che sta Nel codice Genetico Per tornare Alla sua domanda Se posso Risolvere Completamente No Perché i miei geni Ancora È un patrimonio Che redditiamo Non li cambio Non li cambio Quindi possiamo però Gestirla e convorci Possiamo molto ben Gestirla In quanto Esistono Ci sono Una serie Di farmaci Che abbassano Quella Eccitabilità Che in parte Sono farmaci Normalmente Usati anche Nel controllo Della pressione Alta Per cui Ne sono anche Particolarmente Problematici In parte Sono farmaci Che si usano Anche nell'epilessia Epilessia Le emicranie Hanno Meccanismi In comune Sono sempre Neuroni In troppa Attività Per cui Anche quel gruppo Di farmaci Può funzionare Nel prevenire Le emicranie Infatti Prima avevamo detto Che ci sono Due tipi Tipologie Di terapia Una Sul momento Per abortirmi Per cancellare Il sintomo acuto Quando ce l'ho Che Della volta Non è niente facile Un'emicrania Questo va anche detto Va subito Sì È invalidante C'è gente Proprio che si mette a letto Ma una volta che ci sta da un giorno Molte volte non se ne va Si fa il corso naturale Che possono essere anche tre giorni Che anche fotofobia Cioè nel senso Che la luce dà fastidio Rumori Ipersensibilità Ipersensibilità A tutto Tipicamente si vuole stare Nella stanza buia Magari Dormire Perché Altro sintomo Della emicrania È una sposatezza Un affaticamento Insomma Tutto uno stato Brutto stato Dottore Io un'altra domanda Le volevo fare Perché si pensava Che fosse Una patologia Tipica Dell'Africa Un bacino di utenza All'Africa Mi rivolgo Alla meningite Sappiamo che È una membrana Che avvolge il cervello Che va sul tronco Spinale Insomma Tutta questa cosa Qui c'è l'infiammazione Che può essere causata Da virus Da batteri O da funghi Qualche volta anche Dai funghi Giusto Diciamo che Quella più pericolosa È quella caratterizzata Dal meningococco È un'infiammazione In Occidente In Europa Si pensava Non fosse poi Così consueta Invece Ultimamente Ci sono stati Alcuni casi Proprio di meningite Tra l'altro Dottore Non Molti pensano Che la meningite Sia una patologia Prettamente dei bimbi Non è così Anche in edà adulta Si può avere la meningite Vero? Certamente Sì È più frequente In età Infantile Pediatrica Comunque Può essere colpita Ogni età E Per fortuna Non è molto frequente Ma Essendo non molto frequente Comporta anche il rischio Di non essere riconosciuta In tempo Ed è pericolosissima Specie Se è quella Da meningococchi O da pneumococchi Perché Comporta Un'infiammazione Purulenta Acuta Delle pellicine Che coprono Il cervello Che poi Lascia il danno La corteccia È sensibile Oppure Purtroppo È mortale Perché non Compatibile Con la sopravvivenza Del cervello È importante Per cui Tenerla Sempre in mente Quando ci sono persone Con Mal di testa Che non hanno mai avuto Un mal di testa Particolamente Forte E soprattutto Come segno Neurologico Una certa Rigidità Una importante Rigidità Del collo In quel momento Bisogna fare L'esame Immediatamente Del liquor Per fare Diagnosi E poi Immediatamente Cominciare a dare Antibiotici Quello si preleva Tra le vertebre Si preleva A livello Della colonna Lombare Dove Non c'è più Midollo spinale Finito Per cui Non si può Fare danno Si va Con un aghetto Tra due vertebre Si prende Il liquo E nel caso Del meningite Si è torvido Perché è pieno Di batteri Si riconosce Subito E iniziare Poi subito L'antibiotico Più che altro La meningite È anche Prevenibile Con i vaccini Allora Importante I vaccini Noi lo diciamo sempre Che vaccinare È importante È molto importante È importantissimo È una conseguenza Anche della febbre Molto alta Io mi ricordo Che si diceva Spesso Quando la febbre Supera i 40 Di temperatura corporea Si rischia la meningite Situazioni acute Da Prendere Con la massima Attenzione E Anche Prontezza Poi Si è presa in tempo Con gli antibiotici Probabilmente Si cura Dottore Ma è vero Che essendo Una malattia Che si trasmette Per via aerea È giusto Che gli antibiotici Nel caso di un bimbo Li prendano anche I genitori Perché magari Può essere facilmente Trasmissibile Nella meningite Da meningococco Quindi tutta la famiglia Deve fare poi Non solo Anche di tutta una classe Se il bambino È andato a scuola Per comunque Tutte le persone Che sono a contatto con lui Devono comunque Che sono potenziale Stati in contatto Devono Farsi qualche giorno Pochi giorni Di antibiotici Va bene Perfetto Dottore Noi ci fermiamo Un attimo Do la linea alla regia E a rientro Parleremo di Alzheimer E Parkinson Che sono anche due patologie Molto molto frequenti A fra poco Perfetto Perfetto Perfetto